Risorse per sostenere le aziende, moratoria sui mutui e misure ancora più drastiche per fermare la corsa del virus anche tra i cinghiali selvatici. Sono alcune delle proposte emerse durante il vertice delle associazioni agricole, convocato da Confagricoltura Milano Lodi per salvare gli allevatori pavesi dal fallimento, dopo che la peste suina è tornata a dilagare in diversi impianti in provincia di Pavia. Dopo quelli di Torrevecchia Pia, Mortara, Gambolò e Santa Cristina e Vissone, un altro focolaio è stato scoperto nelle scorse ore a Marzano in un allevamento con oltre mille maiali. A causa dell'epidemia in circa un anno ne sono stati abbattuti già oltre 13.500. Percorrere ai ripari nelle scorse ore, Regione Lombardia ha annunciato lo stanziamento di altri 3,8 milioni per le aziende danneggiate dalla PSA, andando così ad aumentare il fondo regionale per le agevolazioni finanziarie agli allevamenti, in gran parte dedicati proprio alla provincia di Pavia. 7, invece, milioni messi sul piatto per tutta la Regione, per i nuovi recinti, per gli allevamenti, per aumentare insomma la cosiddetta biosicurezza, evitando quindi che i suini possano entrare in contatto con i cinghiali selvatici. I nuovi focolai negli allevamenti pavesi hanno riacceso la polemica in Regione con l'opposizione che tuona noi l'avevamo detto, avete nascosto la testa sotto la sabbia, ci vogliono i controlli nelle aziende, nel parco del Ticino, dove le persone girano inconsapevoli, sostiene il Partito Democratico con i consiglieri Vallacchi e Marchesi, perché non c'è comunicazione, non viene spiegato che si diventa facilmente vettori del virus.